Il 12 dicembre scade il termine per la presentazione dei moduli per la richiesta di rimborso totale o parziale di libri e materiale scolastico comprati nell'anno corrente. L'annuncio è rivolto alle famiglie il cui reddito ISEE 2013 è inferiore a 10.632,94 euro. Queste dovranno indicare così i propri dati e l'importo totale della spesa. Il modulo scaricabile da internet dovrà essere accompagnato da una fotocopia dell'attestazione ISEE 2013, del documento d'identità e del codice fiscale e quindi dovrà essere presentato alla segreteria della scuola d'appartenenza. A rendere valida la richiesta sarà la documentazione attestante alle spese sostenute, ovvero l'insieme degli scontrini ricevuti dalla libreria.